Come è nata l'idea di realizzare questo corto che coinvolgerà Fibizzano, che è un comune della Lunigiana, e Spezia, che è una delle più importanti città della Liguria? Cominciano i spezzini. Cominciano i spezzini. Allora, è il terzo lavoro che come gruppo realizziamo insieme, dopo il terzo metrato con Matteo Taranto contro lo specchio, che è stato girato agosto dello scorso anno al CAMEC, e il documentario Tonino, che abbiamo girato invece l'autunno scorso, e che in questo momento è in giro per diversi festival italiani. Quindi abbiamo sposato questo terzo progetto, che è stato ideato dallo psicoterapeuta Silvano Solari dell'Università di Genova, e invece il protagonista è appunto Alessandro Haber, e un ragazzo che realmente soffre della sindrome di Aspergen, che è Pietro Benelli. Potete dire qualcosa anche voi assolutamente? Diciamo che è un piccolo esperimento di cinema verità, perché Pietro è realmente affetto da questa sindrome, interpreta se stesso, e è stata un'esperienza interessante anche vedere collaborare, recitare, interpretare lui se stessa insieme a un grande attore come Haber. Oltretutto il colloquio è realmente avvenuto più volte, il colloquio che poi vedrete in video è un'esperienza di vita che Pietro porta come sua esperienza reale, perché lui desiderava veramente fare il fotografo sulle navi da crociera e ha provato più volte a entrare. Si sa dire che è un entrare senza filtro, perché Pietro reagisce agli stimoli, alle domande del selezionatore in maniera assolutamente diretta, quindi se una domanda che gli viene rivolta è stupida, lui chiede perché gli viene rivolta una domanda stupida e tutto ciò rende anche l'atmosfera non di così larante, però un po' surreale, abbastanza una cosa da vedere. Quando è che ce lo proporrete allora? Probabilmente a fine estate, lo presenteremo, dobbiamo ancora organizzare comunque la prima e intanto incomincieremo già a mandarlo ai festival piano piano.